Una nuova offerta politica per il governo del paese, le nostre idee, le proposte dei cittadini, 25 e 26 novembre, Portici, Napoli. L'Energie per l'Italia completerà nei prossimi giorni la costruzione del proprio programma, il 25 e il 26 a Napoli, alla regia di Portici, e poi il weekend successivo, il 2 e il 3 di dicembre, a Milano, quattro giorni di lavoro intenso per discutere, capitolo per capitolo, il nostro programma di governo. Il programma col quale noi vogliamo andare alle elezioni e soprattutto il programma col quale vogliamo governare per ricostruire il paese, rilanciare la sua economia, creare più giustizia sociale e dare uno spazio a un futuro ai giovani.